Ragazzi allora buona giornata a tutti Io adesso una piccola premessa che faccio E' inerente a qualche coglione purtroppo che viene a commentare Anzi non da me perchè ormai questi coglioni li ho per fortuna bannati già all'epoca Quindi sono contento di aver fatto questa cosa qui Ma vanno da altri componenti della Avengers Crew, non faccio nomi E attaccano indirettamente, no ieri abbiamo fatto un video Sul tridente Io Gianni e Luca E quindi c'è uno di questi che ha commentato sotto quel video Non contento, è andato a commentare sotto il video di un altro componente di Avengers Crew Per attaccarci indirettamente perchè noi critichiamo Allegri Perchè Luca ha detto che comunque la squadra nostra è forte E quindi quelli che hanno giocato contro la Lazio E che hanno vinto tra zero sono gli stessi che hanno giocato un mese prima E facevano cagare Solo che, e questa purtroppo è la grande verità Prima era colpa dei giocatori Adesso è merito di Allegri Voi purtroppo avete dei problemi E questo qui è andato e anche altri Sono andati sotto altri canali A scrivere queste stronzate qua Indirettamente rivolte appunto a questa cosa qua Detta se non sbaglio appunto da Luca In quel video del tridente Allora, prima di tutto, vabbè, siete senza palle Perchè, vabbè, questo è inutile anche girarci attorno Le avete veramente piccole piccole Ma al di là di questo Al di là di questo Il fatto che questi qua Fino a ieri, fino all'altro ieri Fino a una settimana fa Erano nascosti Erano zitti Questi sono i tifosi Ok? E questi hanno la responsabilità Poi Se qualcun altro Qualche altro influencer O youtuber Dice forza Lazio E forza Sarri Vengono dette queste cazzate Per colpa di tifosi Come voi Che voi non siete tifosi della Juventus Ma di Massimiliano Allegri Voi non tifate Juventus Perchè io Io vi ripeto Quando avevo 16 anni Una partita in B Me la sono fatta Anche se è solo una A Trieste sono andato Vi posso Assicurare Non rassicurare Assicurare Che la mancanza di entusiasmo Che ho adesso Non l'ho mai avuta Neanche negli anni Dei settimi posti E nell'anno di Sarri B Quindi io Speravo che Allegri Se ne andasse adesso Per avere Quanto meno Un minimo di Perchè io Amo la Juventus Ma prima di tutto Amo l'entusiasmo Che dovrei avere per lei Quindi se L'entusiasmo Mio Diciamo Può tornare Cazzando Allegri Io Sono per l'esonero Tutta la vita Di questo Allenatore qua Che non dà nulla Ma adesso Arriveremo anche A vari punti Che insomma Ho toccato Che mi sono anche segnato Siccome Purtroppo Appunto Vedo Che gli Allegriani Ho visto anche qualche video Di qualche youtuber Attaccare altri youtuber Di qua di là Ormai Il dissing è tra di noi Il dissing Che poi è parola inglese E diciamo Discussioni No Discussioni virtuali Sono tra di noi Perché alla fine Insomma Neanche più Contro gli anti Juventini Perché Perché Comunque Voi È colpa vostra Che avete diviso Di più Poi La scelta di Richiamare Allegri Ha diviso ancora di più La tifoseria Ma va bene Io Fino a qualche Anno fa Non mi Schieravo Con nessuno Adesso Però Non è che mi schiero A favore di chi va contro Allegri a prescindere Mi schiero contro Chi lo difende A prescindere Ok Non a favore Certo Anch'io Ma l'ho ammesso Qualche settimana fa Dopo La dichiarazione Vergognosa Dopo Fiorentino Juventus E pre PSG Juventus Io Sono prevenuto Su Massimiliano Allegri Dopo quella dichiarazione Che avevo Tante Tanti dubbi Certezze Sul suo Gioco Antiquato Anti Europa Tutte ste robe qua Ok Dopo quella dichiarazione là Io l'ho detto Chiaramente Da oggi in poi Io Questo qua Non lo considero più Il mio allenatore Anche dove se vince lo scuetto Questo qua Non lo considero più Il mio allenatore E questo Questo Quando si diceva Sarri Non rappresenta il DNA Juve Con quella dichiarazione là Lui Ha sputato sul DNA Juve Ha sputato sul DNA Juve Dato che avete sempre attaccato Sarri Allegri con quella dichiarazione là Ha sputato sul DNA Juventus E chi non lo ammette E chi non lo ammette È in mala fede Punto C'è poco a fare Quindi un mese fa Due settimane fa Tre settimane fa Non si vinceva Si faticava Si perdeva col Maccabi Haifa Col Benfica No La colpa Col Monza La colpa La colpa Era dei giocatori E non di Allegri Eh perché Perché poi anche quelli che No Hanno detto Ma io non difendo Allegri Però indirettamente In qualche maniera Volevano difendere Adesso Miracolosamente È merito di Allegri E non dei giocatori Voi Siete Disonesti Intellettualmente Punto Ok Punto Perché io Juventus Lazio Ho detto che per me non è Non è il sogno Vedere una partita del genere Sinceramente Perché primo tempo Veramente ragazzi Tutto rispetto Primo tempo È una roba Allucinante Secondo tempo ci siamo svegliati Perché eravamo già in vantaggio Si è messa Nel miglior modo possibile Quella partita lì Per Allegri Ma vi ho detto Vi ho detto anche Vi ho analizzato la partita Per come vede il calcio Allegri È stata una partita impeccabile Per come vede il calcio lui Non per come lo vedo io Quindi ho dato E non ho mai dato Sufficienza quest'anno Ad Allegri Anche quando ho vinto Neanche l'anno scorso Se non sbaglio poche volte Gli ho dato 6 e mezzo E 7 e mezzo Alla prestazione dei giocatori Dalla squadra In generale Punto Perché comunque Ripeto Organizzazione offensiva Non ce n'è Non c'è Quindi Che adesso viene a Salta fuori Con il discorso Carri Mica Carri Patenti Allegri è un grande Attore Uno mi ha Mi ha commentato Io l'ho bannato Io ragazzi vi banno Ve lo dico Però Allegri Se venite qua a rompere Il cazzo con Allegri Mi avete rotto le balle Ok Mi avete rotto Perché un conto è discutere Parlare Ma siccome vedo che siete invasati Di Allegri A me sinceramente Sta cosa qua Dà fastidio E vi banno Perché In questo canale qua Non potete Scrivere Stronzate Solo perché Amate Massimiliano Allegri E fate finta Di amare la Juventus Ok Punto Perché Io ripeto Amare la Juventus Un conto Ma io Vorrei anche Tornare ad essere Entusiasta Vorrei Tornasse In me L'entusiasmo Di vedere la Juventus Non l'angoscia Non la voglia Della cacciata Di Allegri Perché Secondo voi Per me è bello Guardare le partite Sperando Non che la Juve perda Ovviamente Io non direi Forza Lazio Proprio non ce la faccio Forza Magari Vince Parigi O perde O perde La Juventus Vi dico Ma sapete cos'è Nel bene o nel male Comunque è un bene Da una parte o dall'altra Perché magari È un piccolo passo Per l'esono di Allegri Dall'altra parte O vinci E quindi Alla fine Cade in piedi Però al di là di questo Mi spiace Ma Vedere le partite L'angoscia Di Allegri Che rimarrà Sulla nostra panchina Ma Alla fine ragazzi Lo noti Quando c'è gente Che dice Eh Te ne devi fare Una ragione Allegri rimarrà Fino a giugno Fino a fine contratto Questi sono quelli Che amano Allegri Non la Juventus Quindi quando Allegri Se ne andrà E speriamo definitivamente Non metta più piede qua Voi dovrete Andare Attifare La squadra Nella quale andrà Massimiliano Allegri Come hanno fatto I conti anni All'epoca Quando Conte È andato a Chelsea Dopo l'Inter Perché Forse hanno Tifato anche l'Inter Anzi no Prima No Scusate Prima Prima Chelsea Dopo l'Inter Ma sì Vabbè Comunque Poi o meno Hanno fatto così Ecco fate la stessa cosa Di Conti anni Che tanto criticate Fate la stessa cosa Perché vi state Comportando nella stessa Medesima cosa Nello stesso Medesimo modo In dieci anni Ho fatto un video Qualche settimana fa Conte e Allegri Non sono migliorati Di un cazzo Punto Perché se in dieci anni Hanno allenato Vabbè Chiamato Allegri E abbia chiamato anche Conte Non sono andati Uno perché non lo voleva Lo spogliottoio Che era Conte E l'altro perché Lui ha rifiutato E a Madrid Stanno ancora Ringraziando quel giorno Perché sono sicuro Che con Allegri Su la panchina Era Madrid L'anno scorso Era Madrid Non avrebbe vinto La Champions Punto Detto questo Detto questo Allora Risponde anche Il fatto che Ma non si può dire Che i giocatori Sono forti I giocatori nostri Sono scarsi Stanno facendo passare Il messaggio Come ha detto Allegri Tra l'altro dopo la partita Ha detto Mi sei aspettato Di essere a 4 punti A quarto posto Quindi Praticamente Sta facendo passare Che ha fatto un miracolo Perché Allegri Al di là del gioco Non gioco Delle prestazioni Per questo Lo voglio fuori Da palle Perché proprio Non lo sopporto più Non lo sopporto più Lui e chi va ancora dietro Vabbè Comunque Al di là di questo Detto questo Poi Le partite Le analizzerò Partita dopo partita Se avrà di Merti Gli darò Però Sicuramente Non più come prima Poi Allora Sul discorso I giocatori Nessuno ha detto Che sono giocatori Fenomenali Sono buoni I giocatori Perché è inutile Tirare fuori Emile Tifagioli Kvaraskela Chi cazzo era Kim Chi cazzo era Voi tirate fuori I giocatori giovani I nostri Io sono il primo A criticare Sapete bene I giovani italiani I settori giovanili italiani Più che altro Che costruiscono Male I giovani Ma Kim Kvaraskela Che hanno preso Che hanno preso Hanno preso Tre acquisti Se non sbaglio Chi cazzo hanno preso Adesso non ricordo Chi cazzo erano Prima di andare a Napoli Ma anche gli altri Mario Rui Lo Bocca Che fino a due anni fa Lo volevano cacciare Ramani Ma ragazzi Ramani era La riserva Come lo Bocca Era la riserva Nel Napoli Due anni fa Ma scherziamo Di Lorenzo Che per carità È un buon terzino Ma in Italia Che per carità Tutto quello che vogliamo Sicuramente È un buon terzino Io non sto Anghi sa Che a 27 anni È stato Non dico scartato Perché è un brutto termine Anche nel calcio Però è stato Sbolognato dal Fulham Se non sbaglio Dal Fulham A 27 anni Quando a 27 anni Dovresti Per fare lo step Successivo Dovresti andare In Premier Non andartene Dalla Premier Vabbè Poi Hanno Lo Bocca Vi ho detto Zenliski Che comunque è sempre stato Un eterno incompiuto Poi lui Buon giocatore Tecnicamente valido Ma discontinuo E Osime Che ha avuto Più problemi Che altro In questi In questo anno e mezzo Praticamente E Losano Che i napoletani Non lo possono anche vedere Molte volte Parlo della prima In classifica Cos'è che valorizza In questo momento I giocatori del Napoli Il contesto L'allenatore E vi ripeto I nostri giocatori Non sono fenomenali Ma in questo Campionato mediocre Ed è per questo Che Allegri gioca così Ma adesso ci arriviamo In questo Campionato mediocre Ok Tu Siamo Le prime quattro Della classe Diciamo Inter Napoli Inter Mina Juventus Sono tutte là A livello di qualità Individuale Chi più chi meno Siamo tutte lì Perché è un campionato A ribasso Mediocre Un po' come tutto Il movimento calcistico mondiale Che è un po' a ribasso Rispetto a 20 anni fa E la serie ancora di più Perché Allegri gioca In difese contro piede E cerca solidità E fase difensiva Solidità difensiva E fase difensiva E molti difendono Allegri Per questo Perché la miglior difesa Vince il campionato Ma sapete perché A parte che non sono sicuro Che quest'anno Vince la miglior difesa Anche se comunque La Juventus Io ripeto Nonostante Sapete bene Cosa penso su Allegri Per me In questo campionato In merda La Juventus Comunque può vincere lo scudetto Però al dia di questo Andiamo avanti Salvo appunto Che non succedano altre cose Come è successo All'inizio dell'anno Ripeto Minimo lo scudetto Per Allegri Se non lo vince Lasciamo stare Lasciamo stare Vabbè comunque Al dia di questo Perché in Italia Allegri Si ostina Con la fase difensiva Perché sa benissimo Che in Italia Essendo che la qualità È bassa Alla Juventus Bene o male I giocatori di qualità Ci passano Di Maria Ci passa Chiesa Pogba Lasciamo stare Il discorso degli infortuni No Ma anche Anche levando Questi giocatori qua Citiamo Milik Milik Che è stato Sbolognato dal Marsiglia Liguano Campionato che critichiamo Molto noi Ma in Serie A Fa ancora la differenza A livello collettivo Nonostante abbia avuto Tanti problemi Anche lui fisici In questi anni Certo La differenza L'ha fatta Calabria L'ha fatta Tonali Con tutto rispetto Perché non lo può fare Anche In un contesto Giusto Anche lo stesso Fagioli Faccio un esempio Per intanto Tamponare Fino a che non Tornano Se torneranno Poi I giocatori Appunto Che dovrebbero Sì titolari Rabiot Rabiot Sapete Io lo critico Molto Lo attacco Per me Non è un giocatore Da top club europeo Però Rabiot Nel campionato italiano La differenza La può fare Eppure Quelli che mi esaltano Il signor Adrien Rabiot No Io ho preso Dieci anni Gli ultimi dieci anni Anche dei giocatori Che vi cito Perché Perché Adrien Rabiot Essendo una mezzala Comunque di strappo Ha fatto pochi gole Pochi assist Adrien Rabiot Ha fatto La bellezza In dieci anni Ha fatto 36 gole 25 assist Che per una mezzala Sono pochi Matuidi In dieci anni Quindi ho levato Quelli dopo Matuidi Ha fatto 43 gole E 39 assist Che tecnicamente Era Molto più Scarso di Rabiot Io l'ho detto Rabiot L'unica cosa Che mi faceva sperare Che era più tecnico Di Matuidi No Quindi Sotto quell'aspetto Si sperava E ha fatto meno gole In dieci anni Di Matuidi Ma poi citiamo Citiamo anche Vabbè Siccome è un signor Giocatore Senza citare Che dire Che sapete bene Che sia che dire Assieme a Matuidi Non mi facevano impazzire Perché erano Sopravvalutati Anche loro Perché giocavano In un centrocampo Che comunque Poteva vincere Il campionato italiano In Europa Però poi Prendeva le sberle Da giocatori più giovani Che correvano di più Meglio E ti facevano correre di più A te Che avevi comunque 5-6-10 anni in più Il signor Aaron Ramsey Ho levato anche lui Qualche anno Per far sì che Fossero dieci anni Per essere obiettivo Ha fatto 67 gol E 74 assist Aaron Ramsey Non avesse avuto Problemi fisici Ripeto Aaron Ramsey Per me sarebbe stato Uno dei centrocampisti Più forti D'Europa Aaron Ramsey Siccome è meglio Di che dire Perché per me Era più tecnico Ramsey di che dire Ok Giusto per citare Qualche nome Il grande Rabiot Il grande Rabiot Di sto cazzo Che ripeto Un campionato Fa la differenza Perché è un campionato mediocre Ma per prenderne 7 Chiederne 10 L'anno Tu dovresti andarmi In doppia cifra Se non di più Cioè di più Non dico tripla cifra Dico 10-15 Gol E 10-15 assist Ogni anno Ogni cazzo di anno Allora lì Saresti un top play Sapete bene cosa penso Il Savic Che è molto limitato Discontinuo Anche lui Viene esaltato perché Gioca in un campionato mediocre Tant'è che anche lui Ha 27 anni Gioca alla Lazio Non in un top club europeo Eh ma è stato cercato L'hanno preso No quindi Vabbè Comunque al di là di questo Che fa tanti gol E tanti assist Pure lui Savic Fa molti più gol E molti più assist E tira B.O. Quindi Questo va detto No E Poi altra cosa Altra cosa Sul discorso Ripeto Della fase difensiva Ripeto Allegri ragiona così Perché sa Molto bene Sa molto bene Ok Che in Italia Dice L'importante è non prendere gol Tanto Essendo che la qualità è bassa Io comunque I giocatori di qualità davanti Ce li ho Quindi prima o poi il gol Vittoria lo trovo Così ragiona E così però Vieni fregato in Europa Perché in Europa Conta molto di più La fase offensiva Che la fase difensiva Che poi ripeto La fase difensiva In Europa La si fa un po' più alta Con un pressing Sempre comunque Con una squadra Compatta Corta Ma in avanti Non indietro A parte Real Madrid Che è un caso Totalmente a parte Real Madrid Che comunque L'ho detto Anche ieri Il Real Madrid Lavora Ragiona Fa Un buon lavoro Di scouting Tant'è che va a prendere Giocatori Che poi A Real Madrid Diventano campioni Non va a prendere Campioni Affermati Per Vinicius Quanto hanno pagato 40 milioni Avreste mai Peso 40 milioni Per un giocatore Che arriva A Sud America Come quella volta Fece se non sbaglio Il Barcellona Per il mare No La vostra risposta È no Quindi è troppo facile Dire Dopo che questi qua Sono diventati campioni E poi Vi do ragione Non siamo noi Gli scout Della Juventus Dovevano fare loro Gli osservatori E su questa cosa qui Vi do ragione L'unica differenza Tra Real Madrid Da noi Anzi due differenze Una è questa Che lavorano ancora È una delle poche Grandi squadre Siccome è che comunque Lavora A livello di scouting Oltre che con Ovviamente I me Gli agenti Perché vabbè Gli agenti purtroppo I brucolatori Ci sono in mezzo Vabbè Comunque al di là di questo Ma soprattutto La potenza di fuoco Per trattenere questi qua Quando diventano campioni O comunque Ottimi giocatori Questa è la differenza Tra noi e loro Fine Ok Però Se non sei la squadra Più forte Se non sei la Madrid Devi dare un qualcosa di tuo Come fase offensiva In Europa Ed è lì Che si vedono I grandi allenatori Allegri non lo è C'è poco a fare Allegri non lo è Punto Poi Io qua ho scritto In campionato O sei O sei la più forte O tra le più forti Puoi pure giocare difese Contropiede Perché nell'80% De partite La giocata individuale Arriverà E potrai vincere il campionato Per questo Allegri Ragiona così Perché lui ragiona Con Il mi limito A non prendere gol Tanto poi davanti Qualcosa combino In questo campionato Mediocre Ed è proprio così Poi in Europa Vi ho già detto La musica è ben diversa Prima alcuni giocatori Diventi campioni E vabbè Poi ho fatto il discorso Del Real Madrid Ragazzi Questa Questa purtroppo È la verità Ripeto Non Sono Giocatori Fenomenali nostri Ma in un campionato Mediocre come questo Sono giocatori da scudetto Che a voi piazza O non piazza Quindi Allegri Non ha fatto nessun miracolo E non lo farà anche Qualora dovesse vincere lo scudetto Avrà fatto solo il suo Compito La cosa scandalosa È essere fuori Da Champions League Con soli tre punti Perché se non fosse stato Per il Maccabi Haifa Che ha preso 13 gol in due partite Seremmo arrivati Direttro a quarti La cosa scandalosa Che ha fatto I record negativi Della nostra storia Quest'anno In Europa Ma queste cose Non le citate però Queste cose Non le tirate fuori Queste cose Le nascondete Le mettete sotto la sabbia O sotto il tappeto No Questo fate Perché a voi Della Juventus Frega cazzi Ormai voi siete orientati A difendere solo Massimiliano Levi Perché lo amate Come difendevate E difendete Agnelli E come in altre situazioni Fatta questa grandissima premessa Adesso cos'è che deve cambiare Allora Analizziamo un attimo Velocemente Questa prima parte Di stagione Ripeto Ve l'ho già detto Per me È una stagione Già fallimentare Già adesso Sei fuori Da Champions League Con solo i tre punti Sei in Europa League Sei terzo Sei terzo Perché hai vinto Sei volte di fila Hai vinto Sei partite di fila Ma sei ancora Menodici al primo posto Giusto per Poi ripeto Il Napoli potrà calare Perché è evidente Che secondo me Chi ha fatto Secondo me Sono anche dati di fatto Chi ha fatto Peggio Nel giorno di andata Migliorerà nel giorno di ritorno E viceversa Chi ha fatto bene Quasi Alla perfezione Nel giorno di andata Avrà solo da perdere Nel giorno di ritorno Quindi questo è un dato Di fatto La media punti Che si va Oltre i 100 punti Per me il Napoli Non ci arriverà i 100 punti Perché calerà Poi non so Se arriva a 90 80 Perché se arriva a 90 Molto probabilmente Lo scuetto è suo Se arriva a 80 Lo scuetto Lo può Se lo possono giocare In altre Oltre che il Napoli Questo è il senso Ok Boh Detto questo Detto questo Perché per me Non sarà più Un campionato dove Nel quale Ci saranno due squadre Che supereranno i 90 punti Come è successo nel 2018 Scordiamocelo Quindi chi arriva a 90 punti Adesso in questo campionato Mediocre Vince lo scuetto Per me Per me Detto questo Questa prima parte di stagione Ripeto È stata fallimentare Ma fallimentare Significa che è già fallimentare Tutta la stagione Indipendentemente Da cosa porterà a casa Allegri Allegri ha gestito male Non solo Al Diak Appunto Che ha dimostrato Di non migliorare A livello prestazionale E di Meccanismi offensivi Di organizzazione offensiva Allegri ha dimostrato Una grande presunzione In quest'anno e mezzo Ha dimostrato Di Credersi Chissà chi Di credersi Un grande allenatore Cosa che non è Io l'ho detto Quando è tornato L'unica speranza È che Sia tornato Per vincere qualcosa Di più qualitativo Rispetto al semplice Scudetto E quindi Mi riferivo ovviamente Alla Champions League Ok Avevo detto Per me Può anche stare Tre anni Se mi dimostrerà Miglioramenti prestazionali In Champions League Che mi facciano essere Ottimista Per il terzo anno In Champions Perché Nel giro di tre anni Due tre anni Mi deve portare a casa A Champions Se no per me Può portarmi a casa Anche tre scudetti Di fila Per me ha fallito Il suo ritorno È fallimentare Se porta a casa Quello che ha vinto A livello qualitativo Quello che ha vinto prima Per me è fallimentare Punto Non posso Pensare Che questo Torna Per vincere Lo stesso Gli stessi trofei Che ha vinto prima Significa che è Poco ambizioso Ed è per questo Che ha accettato La Juventus E non Real Madrid Non discorsi Privati Semplicemente Per un motivo Perché Allegri Sa bene Che qua Se porti a casa Lo scudetto Ma già adesso È nella sua Comfort zone Perché un altro Un attore Dopo un anno e mezzo Del genere Se abbia stato cacciato Da tempo Ma qui alla Juventus Se vinci lo scudetto Sei un eroe Dopo 2-3 anni Nei quali non vinci nulla A livello Di scudetto Parlo Se non vinci lo scudetto Probabilmente ti cacciano Per carità A meno che tu non sia Allegri Perché poi qualcuno mi ha detto Eh ma la società Tu hai ragione su Sarri Ma la società Mai ha fatto mercato Con l'allenatore A parte quest'anno Con Allegri E non vinci lo scudetto E non vinci lo scudetto E non vinci lo scudetto E non vinci lo scudetto